Sera Le serate di coppa sono... L'Europa League non è facile, è una competizione molto difficile, perché non tutti capiscono l'importanza di vincere, l'importanza di vincere la squadra che si chiama. Per esempio, conosco di Swansea, e questo è un'avvantaggio che posso dire ai miei giocatori che Swansea è una squadra molto difficile da giocare. E' un'altra squadra che si chiama, sono molto organizzata, giocatore di futebol, in alto tempo, e la squadra che si chiama per Napoli, a meno, per il più delle squadre, è un squadra che si chiama. Siamo un'altra questione, quali sono le condizioni di Higuaino e Albiol, e come Swansea è un squadra più diversa da altri squadronsi in Premier League? Iguaini sceglie meglio, ma dovremmo vedere che avremo un trening e vedremo come si farà. Io sono un'optimista, ma dovrei parlare con lui e vedere come si fa. Albiol, vedremo come si farà come si farà. Per quanto riguarda Swansea, sono giocati, sono giocati, sono giocati, sono giocati, ci sono giocati, ci sono giocati spagnoli, ci sono giocati spagnoli che hanno capito il modo di giocare, e ci sono giocati che stanno giocando per molti anni insieme, quindi sappiamo cosa fare. Come è stato fatto, da un punto di vista psicologico, per gestire la scuola di Champions League a Europa League? La questione è che non è facile, ma l'Europa League è un'importante giocatore e è sempre importante per i giocatori capire che vincere un giocatore è un'arcivimento. Spagnolo con Swansea sarà un'autorità in questa direzione perché Swansea spiega un buon giocatore. è difficile per vincere, per arrivare la finale, per arrivare alla prossima e per arrivare alla prossima stagione, per arrivare alla prossima e per arrivare alla prossima, per i prossimi match. spagnolo con un giocatore. Spagnolo con una squadra che gioca in la Premier League è sempre una sfida, è sempre importante. Spagnolo con una squadra che gioca in la Premier League è sempre importante, quindi è qualcosa che per noi è un challenge. Spagnolo con un giocatore Spagnolo con un giocatore Spagnolo con una squadra più una squadra, si è un'assimilatore le vostre idee. Sì, io direi che il giugno generale ha dato un miglior equilibrio per il team e noi ancora vogliamo giocare l'attacco, ma al stesso tempo bisogna difendere e avere le due fasi. Questo avrà avuto in tempo, ma è già iniziato. Un'inversione, no? Sì, è un'inversione. È un'inversione, ma è un'inversione. È un'inversione, ma è un'inversione. È un'inversione per il prossimo match, ma la prossima sarà un'inversione di fai, quindi è importante per il team in generale. Grazie a tutti. è una reale challenge per noi, a vedere un team che è in the middle of the table. Non so se si dovrebbe pensare l'Europa League o magari mettere l'occhio all'interno della Premier League e vedere se è dangerous, ma ovviamente per noi è un challenge di giocare con un team come questo e l'advantage è solo perché sappiamo come si gioca, ma in l'ultimo, sono i giocatori del gioco. I have no problems after the game. No, I think that I know him when he was a player and then I was reading my reports or the reports of my scouts and I think he's someone that likes football and tactically I think that he will be good. Always when you play at the back and you analyze the game from a different point of view you are learning a lot. I'm sure that he will do it and if I can give him any advice because I'm older than him I will do it but after the game. the last time the last time you were here your team were knocked out the capital one cut by Swansea and you start players were sent off to kick in a ballboy the ball and not the boy yeah I think it was a special experience because we lost in the first game and that is one of the things that I told my players listen with Chelsea we lost in the end so we have to be aware of the level of the other team and the quality that they have I think this game was a special game a different game obviously we have to to score three goals for winning and it was difficult and we had some injuries David Luiz that was a key player the best center part that I have I had was injured so it was difficult for us but in the end I think that they did well credit to them and it has to be a message for us today or tomorrow